benvenuti in questo nuovo video di minecraft e questo oggi giochiamo a nascondino e siamo tutti corrigati via allora comunque il nascondino particolare perché sarà nel nostro studio quello reale alla nostra l'abbiamo fatto ricreare bellissimo andiamo via bello col big ladro almeno l'ho iniziato a vedere no ma terribile perché adesso ve lo commentate lo vedete ma io non lo vedo ma anche nella vita reale ci sono i passaggi segreti è un segreto per un altro momento buongiorno buongiorno possiamo fare una petizione per far togliere quel cappellino di Natale a Stef no no mi dovete lasciare in pace io me lo so messo io sono nel mood che lui quest'anno deve per forza avere tutto l'anno capitolare certo tutto l'anno io sto osservando la mappa giusto per darvi un attimino perché veramente vedo la metà di voi in giro ancora no no ancora non vorrei dire proprio bella la posizione di Stef bella 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 si 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 è familiare sembra quasi il vostro studio vero è vero che poi avendo fatto il tour dello studio possono anche confrontarla quindi se l'abbiamo riprodotto bene no ed è una coincidenza perché avevo dato prima questo video da fare del tour ho visto delle particelle rosse no Marci ci ha visto un signor francicoso era nascosto benissimo però dove siete nascosti ragazzi io voi siete nascosti molto bene la scrivania forse io ho visto Stef quello è sceso non si sa dove quell'altro è sceso lì ok va bene mamma mia un infarcio è il tuo studio dovresti conoscerlo sai dove sono andato no ecco quel passaggio segreto c'è anche nel mio studio infatti quando mi trasforma in formica vado in giro da lì ragazzi chi è che sei trasformato in maialino che lo vedo correre in giro con la mano indovina indovina dimmi che secondo te chi può essere dimmelo dai secondo te è il cane è il cane maialino è il caglialino per ti do un indizio non la voglia siete tutti in giro è facile sono dietro time port ok lui perché mi fatti da un indizio di fronte che fortuna però un cecchino no dai ma li stai trovando tutti oggi un god eh mamma mia secondo me è particolarmente difficile nascondersi in questa mappa vedono zombie come lo zombie si si giuro ma come è possibile ma che c'entra non lo so qualcuno è diventato uno zombie allora che mancano io sento un pollo manca solo marci e fere mancano anche marci bello quindi marci dallo zombie allora fere come vuoi morire mi hai visto si cambia nascondiglio ok cambia a la lampona sul divano no 2 cuori mannaggia perché mi sono lanciata un'altra andata marci allora sì 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 ma marci non so dov'è marci con l'asciugamanino come al solito marci puoi per favore smettere di bere il ghettori prima di nascondini perché qua io lo sto guardando ti avevo visto imbecille no dai stai trasformato la pappagalle secondo me ma che strategia era oggi un barazzante secondo me chiunque cerca trova tutti eh no ma marci marci ora fa l'assassino perché va tornando imbarazzante ok ok va bene ma vieni ma non c'è nascondervi veloci veloci non so dove mettermi io questo presentimento che si mi nascondo qua può andare bene allora perché la porta del bagno è chiuto ma questa sembra non avevamo voglia di fare anche il bagno ok no ma come si è più su di così quanto manca marci e mi sa che sta perdendo no no non partire no 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 non partire sono ancora qua ragazzi non è iniziato adesso ragazzoli mi raccomando nascondetevi la fiera io ti potrei uccidere adesso perché sei davanti la scala verde però ho deciso che ti lascerò andare c'è carri lì dietro girati che cosa brutta però io non ho aspettato ancora nessuno è un chiamato a te che non ho campione no 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 campione Volevo capire Sapevi davvero? Raga ma vogliamo far vincere Marci No no Ascolta me non mi trova Fatti chiara amicizia lunga Oh vedo Franci Franci mare Franci mare Franci? Franci usando la tecnica del canguro Ma non c'è squirtle in una mappa Non c'è squirtle nello studio Eh però c'è qui staff Ma non sono io Non è realistica Non è realistica abbiamo mentito Io sono nascosto Perché io sono nascosto Non so perché secondo me siete vicino a me Lo vorrei Allora vediamo dove staff E infatti anche io lo vorrei Quindi ci sta nello studio Perché ferito è già perso Ah sì Fede perso Sì ecco dove è staff Eh guarda che nascondiglio Eh ma come ci sei arrivato Eh c'è un'altra e mezza Eh infatti si vede Bello quel nascondiglio Marci C'è staff dietro di te Marci Sì lo sbaglio staff Lo so ero di via Sì campione ciao Eh vai uccidilo allora Allora Marci sta salendo da Kendall Ma io tanto ho cambiato nascondiglio Figurati se mi trovo ora Beh sei lì dietro Eh basta È zitto staff Vabbè ma era ovvio Ho che le frezze Non mi becca da qua Ho che le frezze che andrà Non mi può beccare C'è il lampadario Comunque è scivolone di Marci Che non se la fa Mamma mia Ma è vero Marci è piccolissimo Ma non è vero raga Non sono piccolo Sei microscopico Ma no mi sono messo la testa gigante raga Vai vai corri No 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 Non se ne hai neanche accorto No non me ne sono accorto raga Esatto Ti sta trovando occhio Il tuo gatto è topo ragazzi Occhio È tutto ok È tutto ok Ti sta cercando Allora posso essere i tuoi occhi È sopra Con chi stai parlando con me o con lui Con te con te Perché stai parlando con Perché dovrei con la parola con lui Che cavolo non capisci Sta guardando sotto Mi ha visto? Non lo so Sì Sono degli occhi terribili Mi dispiace Ciao Aia E ma adesso in 38 secondi Come faccio a prenderlo Sta campione No Ti prenderò male No grazie Voglio vincere Prendi Marci in tutto ciò ragazzi Scusate Eh siccome puoi prenderla lui Eh silenzio nel trangertino Guarda che nemmeno io Bisogna parlare di Marci No io sto parlando un'ora Un video banale Niente di che 17 secondi Vatti vedere Stef Un secondo Se arriva in tempo No 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 Io non mi faccio più paura Buongiorno Sono morto No Ma che salte hai fatto Mark Buongiorno Sono andato a vedere Doveri Per lanciarti È caduto Marco? Ok Dovevi Era Marco Quello piccolo Ero io Molto molto debole Marci No Va bene Marco vai tu adesso vai No non posso Io sono troppo piccolo Eh no puoi tutti Si che puoi vai Vai Ah che noiosi che siete però Vabbè facci l'assassino Dai Tranquillo Ok La testa di che? Che c'è? Non avete mai visto uno con la testa piccola? No Non così Stef scappa Aiuto Ma non è qua raga Stef Scappa Stef Non so dov'è È lì È vero Kendall Ma lì dove? Non so se mi sta trollando È lì No no Sono serissimo Ti voglio salvare la vita Allora L'hai sentito? Sì L'ho sentito Mi nascondo qui dietro Ciao Marco Sei bellissimo Carly non mi spingere Ti ho visto Mark? No non mi ho visto Marco sta salendo Il coso azzurro in oceano De Marco? De Marco? Campione Girati Non si è girato? Ce l'hai con me? Campione Sì sì Campione Sì Campione Ecco bravo Allora Dietro di te Dietro di te Guarda in alto Ma proprio tanto Ciao campione Ma come Non la fanno arrivare qua adesso Non ce la farai mai Stefano come sei? No Sei lì sopra Nelle travi No Non vale Buttalo giù Buttalo giù Buttalo giù Non è corretto E mi ritipo in game Come sei arrivati qua sopra? Ci sono le scalette guide Guarda da questo lato No mi è cresciuto Minecraft La punizione divina Ci sono raga Andiamo Come c'è l'altro Stef lì sopra Comunque Ci vogliono anni di allenamento Ma come è possibile? Stefo ti piaccio così Guardami Stefo potresti girarti Oh no 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 Scappate Ma lo smettete No ma il problema è Marci dietro Guarda Ah perché Mark non è un problema No Peppere non hai visto Marci No l'ho visto Ma guarda Mark Guardami Guarda dove sei L'ho perso Dai sto scappando Sei tu che non hai visto Mark No mi devo vendicare con Mark Per forza Mark ti ho visto Non puoi scappare Fatti gli affari tuoi Fatti la vita No no Mark ti segue adesso Ma dai che mi stai portando a Franci Oh che schifo Che è questo troverbe Quello è Marci Mi dispiace No Stai cercando Mark Trasformati Marci Ti prego Stavi seguendo Mark Che c'entravo io Scambio tranquilli Guarda che Mark Che sei già andato Marci diventa tu è Canse in tutto ciò No Guarda come cerca di cechinarlo Ok Kendar occhio scappa Mannaggia Marci Mannaggia a te Mannaggia Sta arrivando da voi eh È matto È matto Non è vero Non è vero Non credo che riuscirà mai A prendermi da qua Non sono stato io Campione E tu da me No guarda me Perché c'è un po' Un po' di braccio E un pencole Ah Marci Complimenti Guarda Kendar Non mi troverà mai Allora Stef che lo sta facendo lì sopra No ragazzi che fate Mangiarla Stef Ho visto qualcuno Allora io faccio un attimino l'elemento che dà una mano a Franci Franci fai una vita Vai faccio gli immobili dove c'è un action figure Lì ci sono tutti Ma non è vero Ma non è vero Ma sto truffando Ma scusate ma mi sta aiutando Ah ora non lo sa quindi Va bene adesso lo tipo dove dico io Va bene No Allora Perché il tipo dove lo voglio io Sarà tipo Ragazzi Ma sei un salame Come hai fatto a cadere da solo Ma Franci Eri di fianco a Marco Non lo vedo Eh si è buttato giù Secondo me mi vedo Ma come fai non vedere un bitone dell'immunizia con delle braccia Stef ti giuro ti stai prendo Kendall che è il king L'ha già vista Era da lui Io sono sdraiato Se l'ha parese mente com'è sto ragazzo Aiuto No ma sei ancora lì Io non ci credo Non mi vede Come fai a essere ancora lì No Che infame Io ci provo eh Sì ma Franci sono quasi 88 secondi Ce l'ha fatta E' perché si è messo l'interno Sì ma si è messo lì Sì ma si è messo lì Sì ma si è messo lì Sta scappando Scappa Ma aiuto non vedo nulla Ma 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 chi manca? Manca Fere? No io sono già stata trovata Manca il campione allora Manca il fenomeno E' il campione del mondo E' introvabile Eeeh Troppo potente Io non vedo più nessuno Andiamo a trovarlo Ma sei un nano del giardino Da campione Da campione Eeeh Ma è che brutta nascondiglia Dai Banale qui è Guardalo C'è un serpente enorme Franci è vicinissimo a te Vicinissimo? Sì Ma Marco non posso passare Siete vicinissimi Aia Aia Io sono quello che salverà di a Mark raga Andando Buongiorno Buongiorno Ciao Sì Ok Aia Marco tranquillo ci penso 25 secondi Ecco Ti copro Ti copro Non è vero L'ho preso Non è vero Ti ho passato tutto da verso le mie gambe È troppo potente franticoso Non è vero Che truffa raga Che truffa Comunque Ci fermiamo È degenerato tutto come sempre Come in ogni nascondino Quale cose peggiorano drasticamente Io vedo Eseri non descrivibili Guardate Ascolta Ce l'hai con me Solo perché faccio palestra Hai qualche problema Con me Sto dicendo che è difficile descrivervi Non che siete brutti Guarda le mie braccia possenti Speriamo che vi sia piaciuto Sto nascondino Per qualche motivo E ci vediamo Ciao Ciao Ciao